Ciao a tutti, oggi vi presento una proposta di legge che punta all'installazione di telecamere all'interno di strutture sanitarie per disabili e per anziani. Sono tanti gli eventi che si sono susseguiti nel tempo e balzati agli onori della clonaca di maltrattamenti a danno di queste persone sensibili e fragili. Questa proposta di legge vuole incentivare questi impianti dando contributi non inferiori al 50% a tutte queste strutture sanitarie. Questo a tutela dei pazienti ma anche del management e di tutti gli operatori sanitari nel rispetto del dettato normativo in tema di privacy sia nazionale che europeo. Mi auguro che il consiglio faccia presto e dia una legge assolutamente doverosa per tutelare le persone più fragili. Grazie a tutti. Grazie a tutti.